Adesso spostiamo i cavetti e lì dovrebbe essere il piatto numero 2, ok perché sto registrando alla rovescio quindi non lo vedo. Lo proviamo. Qua andiamo a mettere sul 2, Fono 2, accendiamo. Adesso ci sono quattro casse, ve ne faccio sentire due e due, così abbiamo terminato la prova. Così è zero, così le prime due casse. Adesso le mettiamo quattro. Anzi queste sono le altre due e poi le due più due. Guardate il volume, quindi per un appartamento di una casa normale questo è molto potente, questo questo amplificatore, sta al minimo. Allora abbiamo finito la prova, vi ringrazio per l'attenzione, se avete domande me le potete fare, oppure potete scrivervi una mail oppure chiamarmi. Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti!